Si è svolto alla Biblioteca della Regione Piemonte il primo incontro dei quattro dedicati ai prodotti dell'industria manifatturiera piemontesi, conosciuti nel mondo anche attraverso le targhe e le scatole di latta che li contenevano. La conferenza ha trattato in particolare di musei d'impresa. Prostimo appuntamento il 24 settembre, ingresso libero sino a esaurimento posti. Quali sono i tesori che custodisce il Museo di Reale Mutua? Nel Museo Storico di Reale Mutua, che è stato inaugurato nel suo nuovo allestimento nel marzo di quest'anno, non si trovano solo carte o polizze, ma si può scoprire non solo la storia di Reale Mutua, ma anche di Torino, del Piemonte e di tutta Italia, perché la storia di Reale Mutua è fortemente intrecciata con quella della nazione. Il percorso è multimediale, c'è la possibilità per tutti di scoprire qualcosa di interessante, indipendentemente dall'età e dalla propria formazione.